Ci sarà anche una sulmonese al Bouquet Festival di Sanremo, concorso nazionale dedicato all'arte floreale, in programma domenica prossima 7 gennaio 2018. Si tratta di Marianna Diana come unica concorrente in gara per l'Abruzzo. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dall'Associazione Piante e Fiori d'Italia ed è patrocinata dal Comune e dal Casinò di Sanremo. Saranno 25 fioristi in competizione al Padiglione di Villa Ormondi di Sanremo che dovranno realizzare dei bouquet colorati sul tema Fiori e Musica sullo Stile Italiano. Il vincitore entrerà a far parte della squadra dei fioristi della prossima edizione del Festival. Ad annunciarlo è responsabile di serie della CNA Franco Ruggeri che manda un caloroso in bocca al lupo a Marianna Diana che rappresenterà in quella sede non solo sul Mona ma l'intera regione Abruzzo. Grazie a tutti.